Non hanno nemmeno, vi volevamo ringraziare per la solidarietà e il fatto che siete in questo momento tutti i periodi di fronte a questo dramma, questo veramente ci fa molto piacere. Allora abbiamo concordato che sabato, come dice, alle 3, noi faremo questa manifestazione regionale in cui tutti siamo invitati. Allora partiremo dalla propria piazza d'Almazia dove è successo questo partaggio molto brutto che ha segnato veramente tutti, perché quello che è successo oggi è di una gravità inaudita, inutile stare a girarci intorno, perché quando due persone vengono ammazzate come bestie non ci sono parole. Ecco perché è anche l'attenzione di molti ragazzi. Ognuno di noi in questi casi reagisce a modo suo, però è un'occasione in cui noi possiamo sentire tutti assieme, fare una cosa utile che dia un segnale a tutto il paese. Quindi invitiamo tutti, sabato alle 3, il concentramento sarà in piazza d'Almazia. Sicuramente domani anche con la rete Fiorentina ci vedremo alle 6 in piazza d'Almazia per mettere un po' a punto alcune cose. Sicuramente qualche comunicato stampa, perché in questo momento una versione ufficiale noi non ce l'abbiamo. Quindi domani mattina sicuramente noi leggeremo i comunicati scritti da loro, non da noi. Quindi domani con i compagni ci vedremo e metteremo a punto, manderemo nella rete un documento scritto da noi qual è la nostra posizione. Quindi noi sicuramente vi aggiorneremo. Volevamo tutti ringraziare veramente a nome della comunità e appuntamento veramente a sabato alle 3 in piazza d'Almazia. Grazie mille, ciao, ciao.